ok ragazzi prima che inizi il video vorrei farvi vedere una cosa una cosa bellissima ovvero questa e si ragazzi io sto facendo Five Nights at Low TV quindi vi posso vedere la fase iniziale perché non voglio scollerare il gioco quindi ragazzi e andiamo con il video Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a tutti noi sono Gabriele Sette e ben tornati sull'Atme Cartoon Nights il decimo episodio dell'Atme Cartoon Nights ragazzi scusate se mi sentite così perché sono raffreddato però in questo episodio come al solito come sempre faremo le challenge consigliate da voi qui ragazzi direi di iniziare allora la prima challenge che mi propone è Mira Seso che mi scrive la nota degli strumenti Freddy a 6 ok Big Bash a 8 Rock of Freddy a 7 Rock of Freddy a 7 Rock of Foxy a 7 anche lui ok Music Man a 5 ok Hellship a 2 ok ok bene ragazzi direi di iniziare questa challenge ok ragazzi la questa notte questa notte dovrebbe essere facile in teoria ? No 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 I know how much you want to fight So I'll add a new problem to your night Che pun Please deposit five coins 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 Qua spegniamo il ventilatore Perché sennò il mio schismander dietro di me Mi fa un masso così Sì per carità concludiamo Anche Freddy Che anche lui per carità È un po' cremengo For depositing five coins Ok ragazzi Andiamo a 10 like per il prossimo episodio E Seguitemi su social Please deposit five coins Please deposit five coins Please deposit Thank you for depositing five coins Seguitemi su social Su Instagram Su Facebook Su GameSold Come vi ho detto È l'inizio video Comente C'è un video gioco Chiamato Favanas Eccolo TV Quindi ragazzi Vi lascio il link in descrizione La prossima GameSold Del video gioco che sto creando Sperarci in descrizione La prossima GameSold Vi lascio un bellissimo like Sì Sì ragazzi Sì E questa notte È stata superata Poi Il video Il video Grazie Non sta freddi Ok ragazzi La prossima challenge Che mi propone È I miei fossi WCF di Sicura Dimension Che mi scrive Qualca challenge Dell'inferno Metti Freddi a venti Ok Oh cavolo Wiccicca a venti Let's make framework a venti Ennagga a venti Che cavolo Wiccicca a venti E Wiccicca a venti Allora ragazzi Freddi Ma che si dà la porca Wiccicca Smet Smet Sì Andane con gotti Ma veloce Let's make framework Ogni volta Bisogna La roccia a venti Ogni volta Bisogna Aggiungere Molto spesso La sua di camera E non ti fai Il scivolio Tante volte Roca scicca Se non lo vediamo Da una porta All'altra Si ammazza E invece Roca Forci Beh Basta solo Non Cliccare Il pappagallo Poi al prossimo episodio Darò Una mia Challenge Segreta Ti piacerà Ok 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 Di là Ragazzi Devo iniziare Questa Challenge Estrema Ok ragazzi Non mi immagino Di quello Che Ok 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 Freddy Non c'è Ok Vediamo che Sta Ok Freddy Ok Teniamo Chiusura Ehi Ehi Moleni Ok 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 Che cita Ho chiuso La Ho chiuso La porta Che mo' C'è Ma 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 That's right And don't you come back now You hear La La cacica C'è Gianni Che qui Io sto registrando Poco Prima di cena Se posso Io ti prendo E ti finisco In forno Ragazzi Non sono Stato Ragazzi Non sono Scavacenco Non sono Scavacenco Ragazzi Eh Volevi Eh Volevi Voglio Ricurinare Nightmare Fragment Ok 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 Adesso Dai Mi pensi Sono Ma Sono Sono Morto Però Ragazzi Sero Però Ce l'avevo Quasi fatta Ragazzi Però Vabbè È un Quasino E' Sei Ce l'avevo Quasi fatta Ok Non preoccupare Se non Ho vinto Ma Dato che eravamo Quasi Le 6 Vabbè Ragazzi Facciamo finta Che Facciamo finta Che abbiamo Vinto Ok La prossima Challenge Me lo propone La La Glor Fluff Shro Shro La Glor Challenge Facca in Forza Qua Così Oh Mio Dio Facca in Forza Vabbè La Che Coino Molto Fregge A 5 Ok Spring Cup A 10 Ok Ennord A 1 Meno male Ehm Falcon Fregge A 20 Nessun Ehm Perfetta 4 Il 4 Ehm 1 Ehm Ehm Questa Una Bella Cosa Ehm Infine Marmoria 10 Ok Ragazzi Direi Di Iniziare Questa Ultima Challenge Ok Ragazzi Qua Questa Possiamo Fare Ah Non è vero Che c'è Siamo Ok Qua Siamo Anche Freddy Green Crap Ehm 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 Caspett Il Caspett Cavolo Mannaggia Che Ok 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 Che Possiamo fare Ragazzi Forse Che Scara Faccio Un Fregge Non si Fa Vedere Ok Ops, ops, ho messo, oh oh, ho messo far con me, invece che far con Freddy, oh mio Dio, oh che rincoglionico che sono, che rincoglionico che sono, ok ragazzi, ok ragazzi, ok ragazzi. A performance was demanded of me, and now I have delivered, encore! Mi sono dimenticato di Fatime Foxy, porca miseria ragazzi, sono riuscito a disciplinare Fatime Foxy, qui non manca ragazzi, avremo un po' di estiro finalmente, no, 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 non ti clicco ragazzi, Ok, oh 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 Ah Ok ah oh no 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 ok questa volta l'ho fregato usate sempre il mio telefono ok ragazzi sono quasi le sono quasi le 5 ce la possiamo fare ce la possiamo fa no no ok meno male ok non c'è neanche male ok volevi eh volevi oh si si finalmente si ok ragazzi il video si conclude qua ok ragazzi il video si conclude qua mi raccomando lasciate un bel like per questo video e lasciate e seguitevi su social su facebook su instagram e noi ci vediamo al prossimo episodio al prossimo episodio e ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.